Allora, sono Ludovica Guardi, ho 16 anni e mi piace molto andare a teatro, editare i video e stare sui social. Che cosa ti sta piacendo del corso di questa mattina? Beh, elaborare idee, lavorare in gruppo. È una format che usate spesso a scuola o è qualcosa di completamente nuovo? No, cioè a volte lavoriamo in gruppo e facciamo delle relazioni e le consegniamo e il voto è di gruppo, quindi c'è familiare il lavoro di gruppo. E l'utilizzo delle tecnologie a scuola? C'è molto familiare, specialmente per me che ho un blog e quindi ci sto praticamente tutto il giorno, mi occupa praticamente tutto il tempo della giornata. E che cos'è che ti piace della tecnologia o della scrittura appunto online? Mi piace il fatto che ci si può mettere in contatto con persone di tutto il mondo, questa è la cosa migliore.